salve a tutti sono il vostro esselomb e nel video di oggi voglio parlarvi di una famiglia di sportivi che ha reso illustre la mia città castellamare di stabbia parliamo dei fratelli a bagnale dei veri e propri idoli del canottaggio e campioni tra i più forti di tutti i tempi i tre fratelli a bagnale giuseppe carmine e agostino sono tutte e tre nati a pompei quindi un comune molto vicino a castellamare di stabbia ma hanno vissuto e si sono allenati sempre qui a castellamare presso il circolo nautico stabbia e quindi hanno portato in giro per il mondo il nome di castellamare li hanno reso onore alla nostra città i due fratelli più grandi giuseppe nato il 24 luglio 59 e carmine nato il 5 gennaio del 62 allenati dal loro zio giuseppe lamura che poi in seguito diventato anche il direttore tecnico della federazione italiana canottaggio hanno insieme gareggiato nella categoria due con insieme al timoniere giuseppe di capa detto da tutti peppiniello hanno gareggiato dal insieme dal 1981 al 1993 vincendo numerosissime medaglie nel due con giuseppe era il capovoga mentre carmine era il prodiere della dell'imbarcazione nel loro palmares ricordiamo dalle olimpiadi due ori una nel los angeles 1984 e una seul nel 1988 e un argento a barcellona 1992 per quanto riguarda invece i mondiali hanno vinto ben sette ori nell 81 82 85 87 89 90 e 91 due argenti nell 86 e nel 93 e un bronzo nel 93 entrambi hanno ricevuto l'onorificenza di ufficiali all'ordine del merito della repubblica italiana a causa delle grazie alle loro vittorie sportive mentre nel 1997 hanno ottenuto la medaglia che è la massima onorificenza del mondo del canottaggio ricordiamo che poi nel 93 in seguito c'è stato il ritiro del fratello più grande quindi giuseppe a bagnale e nel 94 appunto dopo il ritiro di giuseppe carmine a bagnale ha partecipato un altro mondiale vincendo la medaglia d'argento sempre nel due con insieme a chino cascone e come timoniere c'era antonio cirillo sempre nell'ambito dei due fratelli appunto maggiori a bagnale bisogna ricordare che giuseppe ha avuto anche l'onore di essere la portabandiera della dell'italia ai giochi olimpici di barcellona nel 1992 e inoltre è stato eletto il presidente come presidente della federazione italiana canottaggio per il quadrienne olimpico dal 2013 al 2016 il terzo fratello il più giovane invece agostino a bagnale anche se forse ha meno conosciuto rispetto agli altri due bisogna dire che ha un palmarès di tutto rispetto anzi addirittura a differenza dei due fratelli ha vinto ben tre medaglie d'oro olimpico nel 1988 nel 4 di coppia insieme a gialluca farina piero poli e davide tizzano nel 1996 nel 2 di coppia sempre con davide tizzano e infine nel 2000 nel 4 di coppia insieme a rossano galtarossa alessio sartori e simone raineri nella sua carriera ha vinto anche due ori mondiali nel 97 nel 98 sempre nel 4 di coppia e due argenti mondiali nell'85 nell'otto con e invece nel 2002 nel 2 di coppia bisogna dire che nella carriera di agostino a bagnale purtroppo c'è stato un periodo di cinque anni in cui ha sospeso la propria attività agonistica a causa di problemi circolatori che gli hanno impedito quindi di gareggiare dal 1990 al 95 e quindi diciamo la sua carriera ha forse avuto meno vittorie rispetto ai fratelli proprio anche a caso di questo lungo periodo di inattività bisogna dire che poi nel 2004 si è ritirato nel 2006 ha avuto come i fratelli la medaglia Thomas Keller come massima onorificenza del mondo del canottaggio mentre nel 2000 in seguito appunto al suo terzo oro aveva ottenuto l'onorificenza di commendatore all'ordine al merito della Repubblica Italiana i tre fratelli a bagnale quindi hanno segnato la storia del canottaggio hanno reso il canottaggio che è sempre stato uno sport di nicchia con pochi appassionati uno sport di rilevanza nazionale grazie anche alle teleclonache sempre molto accese, animate e cariche di energia di Giampiero Galeazzi i tre fratelli a bagnale nel 2012 nelle Olimpiadi di Londra hanno avuto nell'ambito delle iniziative connesse un po' a questi giochi olimpici hanno avuto l'onore di avere tre fermate dedicate nell'ambito appunto di questo progetto in cui tutte le fermate delle Metro di Londra furono intitolate a dei campioni della storia di tutti gli sport mondiali e loro tre hanno avuto tre fermate sulla linea Piccadilly, Piccadilly Line per l'esattezza Aounslow East è stata dedicata a Carmine, Aounslow Central a Giuseppe Aounslow West ad Agostino i fratelli a bagnale sono l'immagine di uno sport in cui il sacrificio viene premiato e grazie a loro sicuramente hanno segnato un percorso che vede ancora tutt'oggi il canottaggio come uno sport foriero di medaglie per l'Italia alle Olimpiadi tant'è vero che si continua a vincere numerose medaglie ai mondiali, alle Olimpiadi sicuramente perché forse loro hanno dato un grande esempio a tutti i giovani che oggi invece rappresentano la nazionale vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video, grazie